buongiorno buongiorno cari amici del quizone cari amici di manitalia cari amici studenti di della lingua italiana anche anche in english language today facciamo un po in italiano un po in english per gli amici inglesi e americani o che parlano ovviamente questa lingua così internazionale che ci unisce un po a tutti benissimo cominciamo oggi con cinque quiz molto velocemente oggi molto professionali perché abbiamo anche il nostro timer il nostro conto alla rovescia iniziamo subito questa è la prima foto di oggi eccoci qui alla prima foto vedete questa la mia domanda oggi è questa questa ragazza che tipo che tipo di capigliatura a che tipo di capelli ha quindi siete pronti are you ready what kind of hair what kind of hair hair style is this che tipo di quindi siete pronti via 45 secondi questa vela ve la posso subito dire qui si tratta di qui diciamo che qui capelli questa questa è capelli capelli ecco che tipi di che tipo di capelli a capelli 20 secondi vi do un aiutino 5 4 3 e stop aiaiaiai capelli ricci in english it's carly hair carly ricci capelli ricci eccoci qua amici al secondo quizone cosa sta facendo questo ragazzo cosa sta facendo what is this boy doing what is doing this boy let's start cominciamo con il conto alla rovescia amici allora qui questo è il verbo lui si sta la f qui vi aiuto con un bel n d o si sta toccando toccando la toccando la fronte questa è la parte quindi questa è la seconda domanda si sta toccando la fronte he is touching his forehead la fronte toccando che in english è un ing e andiamo alla terza domanda domanda eccoci amici alla terza domanda del quizone di oggi in che come vedete c'è una mamma questa è una donna ma se guardate a questo pancione capirete subito che questa donna è via col tempo in che stato si trova questa donna perché come ben potete vedere qui c'è un fratellino o una sorellina in arrivo quindi questa donna è questa donna è in in la donna è in stato di gravidanza la donna è in cinta in cinta vuol dire in stato di gravidanza vuol dire che sta per partorire che sta per avere un bimbo in english the woman is pregnant la donna è in cinta the woman is pregnant eccoci qua alla quarta domanda siamo alla quarta benissimo questa domanda come vedete c'è una ragazza che sta sul treno e sta lei sta scrivendo she is riding questa ragazza è sul treno she is on the train la mia domanda è come si chiama questo questa parte del treno questa parte dove si può vedere anche fuori il paesaggio via col tempo 45 secondi finisce con la o inizia con la f un po' un po' un po' bimbo e chi ti 그다음 finally adesso tutti qui siamo le ne parte del treno si chiama finestrino, è il finestrino, se volete diciamo il finestrino si intende come una piccola finestra. In English it's like to say the little window, that is not so little, but in Italian language we say finestrino, finestra, finestra is window, finestrino, la desinenza, ino, it means little, so finestrino. Eccoci cari amici, dear friends, a the last question, all'ultima domanda, l'ultima domanda. Questa signora insieme con le sue bambine, vabbè è una giornata piovosa, come vedete sta piovendo, ma in particolare se voi guardate loro si trovano in città e qui stanno facendo un'azione tipica della città, ve lo metto, ve lo faccio vedere un pochino meglio, vedete stanno camminando, stanno camminando sulla strada, ma in particolare loro, via col tempo, in particolare loro stanno, loro stanno a, questo è il verbo, a, m, m, d, o, quindi in English as ing, è un'azione che stanno facendo, Loro stanno attraversando la strada. Loro stanno attraversando la strada. In English, they are crossing the road. Stanno attraversando la strada, perché qui c'è il marciapiede e questa è la strada dove passano le macchine. Qui c'è, ci sono le strisce, si attraversa sulle strisce. In English, the zebra are called crossing for crossing. Loro stanno attraversando la strada. Bene, anche per oggi abbiamo finito con 5 quizoni video. Vi auguro una buonissima giornata. E vi metto il link delle foto. Ok? Rivediamo. Questo era capelli ricci. Questo era si sta toccando la fronte. Questo era la donna incinta. Questo era il finestrino, il finestrino del treno. E qui è loro, perché sono tre, loro stanno attraversando la strada. Ciao a tutti. Have a nice day. Buona giornata. Haroše vodnia. E ciao. Ciao, ciao, ciao. Alla prossima. Ciao, ciao.